Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo qui tornati per il terzo episodio non ci credo di averlo continuato dopo aver tribulato con due live per due puntate sul livello 6 praticamente, non mi ricordo che livello era e dopo aver scivolato sulla strada ghiacciata di New York siamo al terzo livello, scusate al terzo episodio partiamo e andiamo avanti con il livello 9, ancora strada ghiacciata abbiamo a che fare con una cosa, ma cosa, partiamo super bene cioè, raga, raga, io non ci posso credere che sfortuna per un attimo pensavo di poter allora, non so cosa sono quelle macchie queste macchie, ma di sicuro non portano bene, devo dirlo, raga oh, se n'è andato il passeggero no, non ci credo non ci credo, dai se n'è andato se n'è andato io no, non se n'è andato fortuna dice che non se ne deve andare oh, 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 oh vuoi vedere che sbando vado a finire da qualche parte che non è la strada che voglio prendere no, no, no sì sono stato fortunatissimo allora, questo a mezza testa a mezza testa pelata questo no, dai, che razza che razza di che poi abbiamo accertato che sono personaggi minecrafti questi cosi oh che suoni, non lo vedi? che rosso, stai zitto d'accordo, forse ho no, non ho esagerato per niente niente d'accordo, forse hai ragione a a suonare il claxon perché è verde e io sto lì a fare niente è finito il livello ma chi continuiamo d'accordo, non c'è più la il ghiaccio e questa è una buona notizia oh ma chi è che suona? voglio vedere se tampono qualcuno no no, per loro fortuna dove devo dove? dove devo andare? se mi fa sì, non ha fatto violazione per traffico è solo per pura fortuna no sì no sì per un attimo ho pensato per un attimo ho pensato di prendere che cosa? che cosa? 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 ma cosa? dai ma non ma poi non ci passava nessuno lì è bello che mettono il rosso quando non passa nessuno e quando passano tutti mettono il verde così mi fanno tamponare questo è un gioco no sense il più no sense che abbia mai fatto nella mia vita di youtuber allora ragazzi mettiamo in chiaro una cosa bravi no tu non devi girare vero no ecco bravo dai che scellosso dai no no meno male che hanno i riflessi pronti questi cpu del gioco per fortuna d'accordo dove stiamo andando di preciso? in un parcheggio senza strisce ma il top del top ragazzi non ci credo siamo andati in un parcheggio senza strisce non ci posso credere dai parcheggio senza strisce ma come 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 nella vita come nella vita posso fare io prendere questo cavo dalla mia sedia allora no no ma scusa tu non dovevi scegliere di scendere qua mi hai fatto no 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 e no che che cubetto minecraft senti tu non puoi andare da una parte e poi decidere di andare dall'altra parte perché non puoi più andare da quell'altra parte non ce la sto facendo a vivere questa cosa ragazzi non ce la sto facendo quelli da dove sbucano vabbè a parte che nella telecamera si vede tutto doppiamente più buio e dai che ci riesco a passare dai che arrivo dai che arrivo e non ci arrivo ma ce l'ho fatta abbiamo eguagliato il mio record ragazzi ma no seriamente ma ce li ha gli specchietti sto stupido taxi ecco perché poi mi tamponano perché questo non vede dietro cioè no non ci posso credere dove 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 devo andare adesso oh strada facile senza semafo una faccia della strada facile eccolo 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 mi ci metto di traverso ma mi ci metto perché io sono il vincitore che si mette di traverso per parcheggiare non ci credo e questo me l'ha data pure buona incredibile non ci sto credendo per niente piove allora ma è bello che sembrano da lì dalla telecamera sono normali ma da qua da come si vedono sembrano mini minecraft quando piove sono fortunato incontro il verde da tutte le parti c'è e non c'è neanche una macchina sulla mia strada allora no no si incredibile 20 secondi per arrivarci d'accordo diciamo perché sto finendo il tempo d'accordo ragazzi diciamo che questo è stato emozionantissimo se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto nella pagina no non ce l'ho più la pagina di facebook la devo ancora cambiare ecco gli ho svelato un intero segreto una calaffa di segreti gli ho svelato d'accordo e ci incontriamo al prossimo video dal vostro mister mario bella ragazzi lo guardavo una cosa bella ragazzi